Onorevole, ieri gli arresti per il caso di Maria Chinda, ma ecco ancora una volta questa cosca è potente dei Mancuso. Non poteva purtroppo che essere così. Io sono contentissima che finalmente qualcosa si muova a livello di indagini. Mi sembra, ho scritto su Facebook, finalmente la procura di Vippo si sta svegliando e questo è estremamente importante e indicativo. Io immaginavo e il tutto purtroppo è avvenuto nel territorio dei Mancuso e tutto ciò che avviene nel territorio dei Mancuso avviene con il loro consenso. Non c'è niente da fare. È un cognome che io vorrei vedere scomparire veramente da tutte le presenze che ci sono nella nostra Calabria, ma purtroppo sono veramente dei criminali. Cioè avere eliminato, sottratto la vita di una giovane mamma, di una giovane professionista, una donna che non aveva fatto nulla di male se non la volontà di crearsi una sua vita, di svolgere in maniera esemplare la sua professione, il suo ruolo di madre, di cittadina della nostra Calabria, ecco aver sottratto una vita in maniera così vigliacca ed esserci delle persone che hanno coadiuvato, che sono state di aiuto come quella arrestata ieri che addirittura avrebbe manovrato il sistema di videosorveglianza proprio di fronte e guarda caso manovrato proprio per agevolare questo crimine assurdo, è incredibile. Ecco, io mi auguro che a questo punto si possa almeno ritrovare al più presto il corpo, perché è giusto che i familiari abbiano il corpo della povera signora Kindamo e mi auguro altresì che una volta individuati gli esecutori materiali vengano questi assicurati alla giustizia, ma non assicurati alla giustizia e poi lasciati lì così, assicurati alla giustizia a queste gente, noi non abbiamo la pena di morte ed è giusto che non ci sia la pena di morte, ma mi auguro che facciano la loro giusta fine nelle celle carcerarie e che ci rimangano a vita.